La concentrazione negli spogliatoi inizia il riscaldamento L'attesa della palla a due ed ora siamo pronti a dare il cento per cento Uniamo i nostri pugni verso l'alto e gonfiamo il nostro petto Per urlare il nostro nome all'avversario così forte da tirare giù il palazzetto Ok ci siamo, è arrivato il momento, il coach sta dicendo i nomi Sulla maglia stampato un coniglietto anche se in campo siamo dei leoni Solo Dio sa quanto amo questo gioco, sotto le mie scarpe il parche prende fuoco E fino all'ultimo secondo non sarà finita e solo se saremo una squadra vinceremo la partita Virtus Basket Posano, un solo nome ma 12 cuori Virtus Basket Posano, e sul campo non ci arrendiamo mai